Due persone di Gela sono state arrestate dalla Polizia di Stato. Secondo gli inquirenti, sarebbero indiziate di aver commesso una serie di furti aggravati, una tentata rapina e altri reati, tra febbraio e novembre dello scorso anno. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, ha analizzato una serie di episodi criminosi commessi a Gela, tra febbraio e novembre dello scorso anno, per i quali risultano indiziati due fratelli gelesi, un 19enne e un 26enne. Il ragazzo di 19 anni è indagato per una serie di furti, consumati e tentati, su abitazioni ed esercizi commerciali, tra i capi di imputazione anche il reato di ricettazione di una carta di credito rubata e l'indebito utilizzo della stessa, nonché l'illegita gestione di 83 grammi di ascici nascosti all'interno di un pacco postale, recapitato presso una struttura penitenziaria dove si trovava ristretto il fratello. Entrambi sono indiziati, inoltre, di aver commesso una tentata rapina nei confronti di una persona procurandogli lesioni personali. Il 26enne, sorvegliato speciale dalle forze dell'ordine, risulta indagato per la violazione della misura di prevenzione cui è sottoposto e per il tentato furto, in concorso con altre due persone, di materiale edile all'interno di un cantiere. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica e ravvisando la sussistenza dell'esigenza cautelare, vista la gravità degli episodi delittuosi e le modalità con cui sono state portate a termine, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.